a questa è la storia di giustino che vuole andare in vacanza giustino è emozionato per la vacanza invernale ha del tempo libero in inverno non deve lavorare per due settimane vuole andare in vacanza ma non sa dove andare vuole andare in francia ma la francia è troppo costosa i biglietti aerei costano molto e giustino non parla francese decide di studiare il francese risparmiare soldi e stare a casa b questa è la stessa storia raccontata da giustino sono emozionato per la vacanza invernale ho del tempo libero in inverno non devo lavorare per due settimane voglio andare in vacanza ma non so dove andare voglio andare in francia ma è troppo costosa i biglietti aerei costano molto e non parlo francese decido di studiare il francese risparmiare soldi e stare a casa ecco alcune domande puoi provare a rispondere o semplicemente ascoltare le risposte uno giustino è emozionato per la vacanza invernale giustino è emozionato due ha del tempo libero in inverno giustino ha del tempo libero in inverno giustino vuole andare in vacanza giustino vuole stare a casa no giustino non vuole stare a casa vuole andare in vacanza 4 giustino non sa dove andare giustino sa dove andare no giustino non sa dove andare 5 giustino vuole andare in vacanza in francia giustino vuole andare in francia 6 la francia è costosa la francia è economica no la francia non è economica la francia è costosa 7 giustino non parla francese giustino parla francese 8 giustino decide di studiare francese risparmiare soldi e stare a casa per le vacanze 8 giustino non ca